Che cosa cambia tra una fotocamera di fascia professionale e una fotocamera cosiddetta entry level? Perché dovrei spendere più soldi per acquistare una fotocamera più costosa quando magari posso investire di meno e prendere un qualcosa di più adatto alle mie esigenze specifiche? Questa è una delle domande che mi vengono fatte più spesso in assoluto e andremo oggi a cercare di dare una risposta seppur parziale. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi cercherò di rispondere a una domanda che mi avete fatto in tantissimi... No, non è vero, me l'avete fatta in pochi. Ma me l'avete fatta in pochi perché siete ancora pochi a essere iscritti al canale. Secondo me se ci fossero più iscritti verrebbero fuori maggiormente le questioni che vi stanno a cuore e io potrei direzionare meglio le mie produzioni. Per cui vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciarmi sapere in un commento se questo tipo di contenuti vi interessano oppure richiedere un'altra tipologia di contenuti perché spesso e volentieri io faccio video basandomi sulle vostre richieste. Benissimo, ma veniamo a queste famigerate fotocamere. Innanzitutto qual è la discriminante per cui una fotocamera viene definita? Entry level oppure professionale oppure intermedia se è per quello? Ebbene, solitamente sono le case stesse che stabiliscono questa distinzione. Nel momento in cui esce un nuovo modello è la casa stessa che dichiara questo modello entry level piuttosto che questo modello è professionale. Una volta era sufficiente dare un'occhiatina al prezzo perché il prezzo era una discriminante immediata, saltava subito all'occhio. Prendevi un entry level costava 500 euro, prendevi una professionale costava 2000 euro. lo vedevi subito, c'era una grossa differenza. Oggi questo non è più così facile da definire perché esistono le professionali sul mercato dell'usato che magari costano molto di meno, ma quelle lasciamole da parte per il momento, e poi però esistono delle entry level che per costruzione e per prestazioni sono così belline che costano molto molto di più. Dunque che cos'è che dobbiamo andare a guardare quando dobbiamo capire come orientarci per i nostri acquisti e in definitiva quanto dobbiamo spendere, quanto dobbiamo svenarci per una fotocamera o videocamera che ci soddisfi. Comincio subito col dirvi una cosa. Una fotocamera professionale non produce automaticamente delle foto migliori. Assolutamente no. Perché una fotocamera, per quanto sia bella, se viene usata nella maniera sbagliata e con le condizioni di luce sbagliate, produce un'immagine tanto brutta quanto può produrla una fotocamera entry level o addirittura uno smartphone. In particolare vi faccio notare che più sale il livello della nostra strumentazione fotografica e più dovrebbe salire anche il nostro livello di consapevolezza di quello che stiamo facendo. Vi faccio un esempio. Io sto utilizzando una fotocamera che è considerata un po' intermedia perché la Canon EOS R7 è considerata una semi-professionale. Io la uso in ambito professionale, ci faccio delle cose, mi trovo molto bene. Non è considerata il super mega top in ambito professionale, è un'intermedia. Riesco a produrre dei risultati di cui sono molto contento, vi faccio l'esempio della ripresa che state guardando adesso, ma vi faccio anche notare che questa ripresa farebbe schifo se non ci fosse tutto un contorno di luci, di fondale, di consapevolezza su come posizionare le cose. Nel momento in cui io andassi a utilizzare questa fotocamera con le luci spente e con il lampadario acceso sopra la mia testa, l'immagine sarebbe incredibilmente povera e scarsa. Quindi questo per dirvi semplicemente una cosa. Non fate l'equazione fotocamera pro uguale foto più belle, perché non è vero. Anche per quanto riguarda i video, stessa identica cosa. Anche video forse è ancora più difficile, perché con la foto ce la possiamo cavare, sfocchiamo lo sfondo, usiamo il flash. Nel video è più difficile. Nel video ci deve essere veramente l'aspetto finale che vogliamo nella stanza. Se voi foste lì e mi guardaste, vedreste esattamente quello che vedete a monitor. Quindi se stiamo facendo video ci deve essere veramente la scena allestita. Ora, sfatato questo primo mito, vi faccio notare che è assolutamente plausibile trovare delle entry level che producano lo stesso identico file d'uscita di una fotocamera professionale. Questo perché in una fotocamera professionale la prima cosa che va a cambiare è la costruzione del corpo macchina. Quindi nel momento in cui noi stiamo acquistando una fotocamera professionale di fascia alta o medio alta, la prima differenza, la primissima differenza, è la costruzione del corpo macchina. Una fotocamera professionale sarà probabilmente più voluminosa, avrà quasi certamente più bottoni, più bottoni personalizzabili, perché sono queste le cose che servono magari a un professionista. Avrà più input, più output, avrà il jack cuffie, il jack per fare monitoring, l'ingresso microfoni, avrà più ingressi microfoni dedicati, avrà più uscite HDMI, avrà il doppio slot per la memory card, avrà tutta una serie di cose che servono ai professionisti di alto livello, ma che all'amatore non servono assolutamente a niente. E quindi in questo caso acquistando una fotocamera professionale, a parità di sensore ovviamente perché esistono delle entry level che hanno un sensore uguale o molto simile a delle professionali, in questo caso staremo pagando in più delle cose che non usiamo. Come per esempio il cavo HDMI, non è detto che lo utilizziamo, non è detto che usiamo la macchina per fare video e che attacchiamo un monitor, quindi magari quella cosa non ci serve a niente, i tasti personalizzabili magari non li usiamo, non ci servono a niente. Questa è la prima cosa che cambia quando andiamo ad acquistare un corpo macchina più evoluto. Poi va da sé che un corpo macchina più evoluto probabilmente avrà anche delle altre migliorie. È molto facile su un corpo macchina professionale trovare una risoluzione maggiore. Risoluzione significa semplicemente la quantità di megapixel, il numero di megapixel. Quindi magari io su una fotocamera entry level ho 18 megapixel, magari su una professionale ne ho 50. E anche qui ci dobbiamo domandare, ma a me servono 50 megapixel? Molti mi chiedono, mi conviene fare questo upgrade? Mi conviene comprare una macchina più performante? Lì il discorso è semplicissimo. Per cosa la userai? Perché se la risposta è, voglio una macchina più performante per Instagram, lì vi dico sinceramente che non ne vale la pena, perché scattare una foto da 50 megapixel e poi pubblicarla a 2 megapixel non cambia niente. A quel punto tanto valeva usare una fotocamera entry level da 18 megapixel, che erano comunque troppi perché poi la dobbiamo rimpicciolire per vederla su Instagram. Veniamo ai veri motivi per cui si potrebbe propendere per una fotocamera di fascia professionale, anche se se ne fa un uso, passatemi il termine, amatoriale. Queste motivazioni, a parer mio, sono indubbiamente le prestazioni di messa a fuoco e la capacità di scattare con poca luce. Quindi queste due cose, secondo me, sono i motivi per cui si potrebbe volere una macchina più evoluta rispetto a una entry level. Perché la entry level fa tutto. Si chiama entry level perché è una macchina da palestra, da allenamento, che ti consente di fare un po' di tutto e di capire che cosa c'è che potresti desiderare in più. Ovviamente se io sto usando una entry level e non riesco a mettere a fuoco la mia scena, perché magari ho preso un entry level per andare a fotografare la Formula 1. È ovvio che faccio un po' fatica con un entry level a fotografare la Formula 1. A quel punto mi dico, ok, la messa a fuoco è il mio problema. Allora vado su un corpo professionale con una messa a fuoco più performante. Oppure altro esempio, io magari faccio fotografie di teatro. Mi rendo conto che con la entry level magari riesco a mettere a fuoco, ma le mie foto sono troppo rumorose, sono troppo carenti dal punto di vista qualitativo e del colore perché devo alzare gli ISO a dismisura. Ok, allora andrò su una fotocamera che regge meglio gli alti ISO, come la Sony Alpha 7S III per esempio. Una macchina del genere scatti con degli ISO inverosimili e ti performa ancora benissimo. È una fotocamera dal costo astronomico, ma li vale tutti se è questo che ci interessa. Per cui in fin dei conti secondo me sono queste due le cose che dobbiamo guardare. Non è detto che la scelta di una fotocamera professionale sia quello che ci serve. Se noi facciamo paesaggi diurni, facciamo solo fotografie all'alba e al tramonto, golden hour e robe del genere, non ci servono alte prestazioni di messa a fuoco perché la scena è lì, è fissa, mica si muove. Quindi qualunque fotocamera mette a fuoco un tramonto. E anche se non ci riuscisse, se aveva una fotocamera così scarsa che non riesce a mettere a fuoco un tramonto perché c'è un controluce, è un tramonto, è fermo. Mettiamo a fuoco a mano con la nostra manina e riusciamo benissimo a portarci a casa la foto senza nessunissimo problema. Idem dicasi per i ritratti. Se stiamo facendo ritratto in studio non abbiamo assolutamente bisogno di una fotocamera professionale. Con un entry level ritratto in studio si fa benissimo perché c'è uno studio. Se la luce è allestita, se il set è allestito, qui io non avrei bisogno di una semiprofessionale. Qui andrebbe bene anche un entry level per fare questo tipo di immagine. Preferisco una mirrorless così, c'è la messa a fuoco automatica sull'occhio e io non devo fare fatica perché sono una persona molto pigra. Però non sarebbe obbligatorio. Potevo cavarmela anche spendendo meno. Questa macchina la uso per fare anche altro, quindi il mio gioco era quello. Idem dicasi per quanto riguarda la sensibilità ad altiso. Io magari, che ne so, scatto farfalle al chiaro di luna perché mi ha dato un assignment national geographic di fare quella roba lì. Vado con un entry level e non ce la faccio, chiaramente. Faccio fatica sia a mettere a fuoco sia a portarmi a casa lo scatto pulito. A quel punto una professionale di fascia anche alta è obbligatoria per una cosa del genere. Ma quella è la cosa più difficile che mi possa venire in mente. È veramente la cosa più difficile che si possa fare fotograficamente parlando. Per tutto il resto, di solito, una entry level è più che sufficiente. Ovviamente, a parer mio, la entry level ci deve servire per capire. Vi spiego che cosa intendo. Quando ci approcciamo alla fotografia, non compriamo subito un'ammiraglia. Non spendiamo 7000 euro per comprare un corpo macchina per poi scoprire le cose che non ci servivano. Cioè, io spendo 7000 euro, mi prendo un'ammiraglia e poi comincio a dire Ok, il dual pixel autofocus non mi serve, non lo uso, però l'ho pagato. Tutti questi bottoni personalizzabili, no, non li uso, li ho pagati, non li uso. Tutti questi input, tutti questi jacks, pinotti, robe varie, non mi servono, non li userò mai. Io faccio soltanto fotografie al mio cane. Eh, ok, porca miseria. Hai speso 7000 euro e non li stai usando. Ne spendevi 2000, avevi esattamente la stessa cosa. Però farlo al contrario, farlo in questa maniera, è molto poco conveniente perché abbiamo pagato tutto subito per poi scoprire delle cose che non ci servivano e abbiamo speso un sacco di soldi. Invece è molto meglio fare il contrario. E, attenzione, io faccio questo video per quelli che mi chiedono cosa devo comprare. Quindi se uno mi chiede cosa devo comprare vuol dire che non lo sa, vuol dire che è indeciso. Quindi il mio consiglio è non sai che cosa comprare, pinissimo. Non prendere l'ammiraglia, non la prendere. Prendi un entry level. Così non spendi 7000, spendi 700. Prendi un entry level e da lì costruisci. È molto meglio dire ok, entry level, riesco a fare quasi tutto, mi serve più messa a fuoco. Ok, ho speso 700, adesso spendo 2000. Spesa totale, 2700. No 7000, cioè ti ho fatto risparmiare la metà praticamente. È vero che sono comunque soldi, hai comunque speso un bel po', però hai speso la metà di quello che avresti fatto se avessi preso subito una mega professionale che poi non ti serviva. E poi comunque dall'entry level capisci che cosa ti manca perché dici ok, è la messa a fuoco il mio problema, allora so cosa devo prendere. Devo prendere un modello che performi meglio sulla messa a fuoco. Oppure i miei problemi sono gli ISO, vado a prendere un modello che performi meglio sugli alti ISO. So che cosa devo prendere perché ho capito che cosa con l'entry level non riesco a fare. Questo è un consiglio generale che me la sento di dare a chiunque sia indeciso sugli acquisti e poi soprattutto, questa è una cosa che ogni tanto mi dimentico di dire, ma è la cosa più importante, non vi fidate di me. Andate in negozio, prendetela in mano, chiedete al negoziante, poi se volete comprarla usata online da un'altra parte fregando il negoziante, quella dipende da voi, dalla vostra etica, però andate in negozio e sentitela in mano perché io vi posso consigliare una macchina che è piaciuta a me, ma magari poi a voi non sta bene in mano, non vi piace l'ergonomia e quindi non vi ho consigliato bene. Non fatevi fregare da me. Io vi posso dare un'idea, un consiglio, però poi dovete metterci mano e capire se la macchina vi piace e capire se offre la performance che state cercando prima di comprarla e tornarvene a casa con un'altra cosa che non va bene, a quel punto è un peccato. Bene amici, io vi ricordo se siete arrivati fin qui di iscrivervi al canale perché so che molti di voi, una buona percentuale, guarda magari tutti i miei contenuti ma non è iscritto al canale, il bottone è qui sotto, vi consiglio di farlo così rimanete aggiornati sulle prossime uscite. Fatemi sapere che tipo di percorso avete fatto se siete partiti da un entry level e siete saliti o se siete partiti, Dio non voglia, da un'ammiraglia e poi avete fatto dei downgrade, fatemelo sapere nei commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.